Are you ready? Are you ready? Are you ready for Guardate ragazzi intanto mi prendo un po' d'oro, giusto per capire quanto mi serve per fare quella cazzo di Toro d'Inferno al 3 immediata mi servono 200.000 fottutissimi d'oro 300.000 fottutissimi ho già fatto un attacco guardate l'ho fatto esattamente un'ora e diciannove minuti fa dove ho preso un bordello di oro ho preso 300.000 d'oro, l'ho attaccato ho fatto giusto a partire un attimo l'attacco ho messo come sempre giganti barbari arcieri come sempre ho una sfiga ultimamente con queste truppe del clan per fortuna stavolta però non c'erano i maghi peccato quindi la veleno peccato perchè altrimenti si avessero stato un bellissimo fail dove dovevi spararmi che fece la pompa praticamente ragazzi sono riuscito a prendere oltre 300.000 d'oro e avvicinarmi sempre di più agli 8 fattitici milioni ok quindi qua come vedete come sempre uso i giganti che mi fanno da tanche fortunatamente con la veleno tanche ignoranti? no perchè se non c'erano le truppe del clan quindi i giganti li hanno già potuti quindi la veleno io vi consiglio sempre di portarla dietro anche io ce l'ho sempre dietro pronta allora signor dio mio perchè perchè qua ho messo come sempre ho messo la furia perchè come vedete ho portato via veleno perchè ce l'ho già ma ero senza pozioni di cura di cura solo una posione di cura avevo bravo perchè mi ero dimenticato di aspettare di che finissero però qua sei stato fortunato perchè cosa succede? gli due eroi attualmente sono colpiti solo dallo stregone e dai mortai che sono tutti a difesa zona quindi poco danno qui ho foreggiato perchè dovevo fortunatamente quello stregone era l'1 qua vedete lo stregone non fa un cazzo di danno al re pertanto la regina ha avuto il tempo di buttar giù lo stregone di buttar giù la difesa aerea che è molto utile esatto e qua cominciano entrambi a colpirmi il deposito d'oro e quindi praticamente si sono rimasti 13 mila d'oro perfetto poi vabbè i reali sono morti ma comunque i 300 mila d'oro e i 1.000 del sireno me li sono portati a casa si è arrivato a filo eh di fail a filo a filo di fail adesso guardatemi adesso non posso portare più la veleno dietro perchè questa è in costruzione brava a meno che non puoi neanche gemmare però posso gemmarmi intanto l'ultimo bomb ma quante ne ho scusa non voglio gemmare allora non gemmo facciamo così visto che gli eroi sono già vivi adesso devo prendere circa 200 mila d'oro in questo attacco se non riesco a prenderli e mi avvicino comunque mi gemmo la torre inferno troppo i 10 di oro esatto attacchiamo in live e cerchiamo di prendere almeno 200 mila d'oro se non ci riesco gemmo la torre inferno al 3 aspettiamo qui eh troppo poco troppo elisir e troppo poco oro sarebbe bello convertire potrebbero un mercante che ti converte alle bs ti converte 10 mila di elisir per 2 di oro il mercante su crash of clan 10 mila di oro cioè 10 mila di elisir per 2 unità di oro eeeh si e beh altrimenti allora il problema è questo questo villaggio è attaccabile perchè ha tutti e due gli archi in costruzione però non ho la veleno e ho paura che ci siano le troppe del clan eh è un casino però vedi che vedo questo devo dire che è un po' inattivo quindi o è inattivo o lo tiene lì apposta vabbè io rischio rischio perchè altrimenti qua potremmo perderci ore eh buttiamo i giganti in culonia giorni secoli anni ah buttiamo millenni vai 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 spaccamuro bada bam a quanto pare le troppe del clan non ci sono perchè sarebbero già uscite ok buttiamo immediatamente la cura la cura tanti arcieri a distruggere il mondo ok adesso aspetta che butto giù un po' di barbari qua assolutamente papapero ah la tesla come è tesla dov'è? niente aspetta che butto il no ma i giganti adesso sono stra... vedi che sti bastardi che mettono al municipio mhm pare che butto gli arcieri va butto gli arcieri qua così mi buttano giù subito quale tesla devo buttare... a me interessa buttare... buttiamo una cura qui? ok in teoria mi abbastano due depositi d'oro in teoria in teoria e perchè no è una pratica il problema no no non so se abbastano due depositi d'oro 200.000 gli ho presi eh adesso devi prendere altri 200.000 no devo prendere altri 200.000 ok altri 100.000 sono andati guardate sono vicino mancano 70.000 d'oro buttiamo una cura qua ok questi questi stanno vivi quel cazzo di idioti guarda che stupidi che vanno indietro guarda che stupidi questi qua Dio mio eh abbiamo messo quelle cazze di tesla da quella parte ok ok dai 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 quel depositi regina dov'è? noo è andato di la dai dai ce la fai ce la fai tranquillo anche si alla grande non so non so non so non so perchè guarda sono lontani questi depositi guardi intanto ok guarda gli arcieri guarda 808.000 8.000.000 8.000.000 e 1.000.000 di oro si 8.000.000 di oro no furia no furia vabbè dai ascoltiamo il sire furia si magari sfugili hai buttata proprio io ho furiazzato in maniera nobile come fa lei no io se dovevi furiazzare in maniera nobile potrei buttarla fuori dal villaggio oh guardi la regina è entrata nella furia si è morta bene oh non mi dire che non riesco non riesco a fare il 90% non so se ce la faccio eh se quel gigante passa prima degli arcieri ok si ce la faccio se la faccio no si al cambio al cambio palma oltre 600.000 risorse bene 1.300 bravo 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 sei contento? si perchè guarda adesso vai infernare inferniamoci 8.000 8.000 mi piace torri inferno ma non per tanto per la torri inferno 3 per come l'ho fatta perchè non ho dovuto gemmare è stato epico perchè non ho dovuto gemmare è stato epico bam 1.000 d'oro non posso più neanche attaccare qualcuno se il video vi è piaciuto cliccate attaccarne uno è vero uno attaccate un attaccate uno cliccate un bel mi piace mi raccomando se non siete iscritti perchè so che non siete iscritti perchè no? no perchè ti spiego il 30% delle nostre realizzazioni vengono da video consigliarti vuol dire che quelli che vengono a consigliarti 30% tu che stai guardando i video e non sei iscritto devi iscriverti ciao a tutti e al prossimo fototissimo video del cazzo ma scusa tu ascolteresti uno che consiglia a noi? no e allora scusami non hai ragione ciò ciao